In questi due video del suo canale Mauro Biglino fa un'esplorazione e alcune meditazioni sull'era dei patriarchi. I patriarchi della Bibbia sarebbero quelli che vissero tra Adamo e il diluvio. E durante questi suoi video fa una meditazione che pagherebbe qualsiasi prezzo per fare un viaggio al tempo di questi patriarchi, di questi che vivevano 900 anni, 600 anni, avevano questa lunga vita. Perché lui basandosi su questa considerazione, cioè sul facciamo finta che realmente questi vivessero così tanto, fa una serie di... E noi vogliamo accontentare questo suo desiderio, quindi addirittura gratis, senza pagare alcun prezzo. E quindi vorremmo invitarvi a questo viaggio, al tempo dei patriarchi insieme a Mauro Biglino, che vi proporremo in più puntate, perché sono talmente tante le cose da dire che non basta un video, ci vuole una serie di video. Quindi ovviamente per fare questo viaggio direi che è quasi indispensabile vedere questi due video che chiameremo propedeutici, perché in questo modo entrate nell'argomento, sicuramente li avete visti, perché ho tenuto conto che c'è uno che ha raggiunto 200.000 visualizzazioni, è difficile che chi segue il nostro canale non li abbia visti. Quindi per fare questo viaggio bisogna usare il metodo di Mauro Biglino, fare finta che. Quindi che cosa dobbiamo fare finta? Che le date che sono scritte nella Bibbia siano vere, perché se no fare finta che non vale. E come facciamo a sapere queste date? Perché ci hanno pensato i rabbini, tant'è che l'anno che c'è in Israele è conteggiato a partire dal 3760 avanti Cristo e la data della creazione di Adam e Eva, quindi per i conteggi rabbinici che, come vedremo fa poco, alla fine non è che siano poi così complicati, ne faremo dei conti anche noi, che portano la creazione di Adamo nel 3760 avanti Cristo. Non ci manca solo l'ora e il mese, ma potremmo anche approfondire questo aspetto. Quindi grazie a Genesi 5.1 che elenca tutte le cronologie, cioè in poche parole, dice la data a cui ognuno ha generato il primo figlio e poi quindi in questa successione si riesce a ricostruire le date di tutti gli eventi che sono appunto tra Adamo e il diluvio. Quindi Adamo fu creato nel 3760 avanti Cristo e il diluvio nel 2104, quando finisce questa epoca dei patriarchi, perché vengono sterminati questa razza da questo diluvio e viene creata una nuova razza, quella di Noè, che viveva 130 anni. Quindi i patriarchi vivevano molto e quindi Mauro Piglino fa delle considerazioni interessanti perché siccome vivevano a lungo, rapidamente diventarono in tanti perché nascevano sempre nuovi figli, i patriarchi non morivano, quindi praticamente quasi tutti quelli nominati in quella lista erano presenti all'era del diluvio, quasi più o meno, poi si possono fare conti più addizionali. Quindi per ricostruire questa storia bisogna anche fare pinta che il luogo che ci dice la Bibbia dove era questo paradiso terrestre è reale e vediamo che la Bibbia ce lo dice con una certa esattezza perché dice che da Eden usciva un fiume per irrigare il giardino e là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison, è quello che circonda tutto il paese di Avila dove c'è l'oro e l'oro di quel paese è puro, qui si trovano pure il Delio e l'Onige. Il nome del secondo fiume è Ghion ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. E qui ci sono gli ultimi due fiumi che sono, il nome del terzo fiume è Kiddekel che è quello che scorre a oriente dell'Assidia. Quindi di questo si capisce chiaramente che è il Tigri. Il quarto fiume è l'Eufrate, quindi ci dice questo passo che il paradiso terrestre si trovava dove nascono questi due fiumi, quindi che c'era un luogo da cui nascevano tutte e due. Quindi noi siamo andati alle sorgenti di questi due fiumi e abbiamo visto che è una zona ai confini tra la Turchia, la Siria e l'Iraq. Quindi abbiamo segnato in questa cartina il luogo dove si dovrebbe trovare Eden, il paradiso terrestre. A questo punto, per fare questo viaggio, non useremo la montagna di libri che tira fuori Mauro Biglino perché così ci verrebbe un po' costoso. Useremo Wikipedia, l'encicleperia libera, in modo che in questo viaggio ognuno possa andare ad approfondire che cosa è successo all'era dei patriarchi e ricavare maggiori dettagli di quello che noi racconteremo in questo video. Quindi ogni termine che noi mettiamo sottolineato vuol dire che sono dei termini che su Wikipedia li trovate e potete quindi leggere con maggiori dettagli cosa è successo all'era dei patriarchi. Quindi vogliamo sapere cosa successe tra il 3760 avanti Cristo e il diluvio tra il 2000 avanti Cristo in quella terra che si chiama la Mesopotamia. E bisogna dire che in questa terra successe una cosa molto strana, talmente strana che intriga i linguisti. Vediamo che in quell'era c'erano i Sumeri, quindi i Sumeri, secondo la lista reale sumerica, quindi per sapere questa informazione potete accedere alla lista reale sumerica, iniziavano la loro presenza da tempi immemorabili, però in questi tempi immemorabili c'erano dei sovrani che vivevano migliaia di anni, da cui si ipotizza che i sovrani fossero gli stessi Elohim, perché come è noto hanno la capacità di vivere una lunga vita, in quanto che probabilmente hanno intercettato il gene che porta alla morte e l'hanno bloccato. Diciamo che questo è il tema centrale di questa speculazione, perché loro con queste ricerche siano riusciti a intercettare che il gene che decide quanto deve durare la nostra vita, tenuto conto che questo gene è fondamentale per rendere efficiente una razza, in modo tale che per permettere un'evoluzione più rapida, quindi una razza che vive molto, si evolve molto lentamente, quindi è incapace di adattarsi a nuove situazioni che si vengono a creare in un ecosistema, quindi per esempio i batteri, i virus, sono molto pericolosi perché fanno milioni di mutazioni, probabilmente anche il secondo, e quindi queste mutazioni generano nuove razze, nuove specie che si adattano alla situazione, è quello che stiamo sperimentando con la pandemia, una guerra continua tra vaccini e nuove varianti, quindi è ovvio che la natura tende a fare vivere poco gli animali in modo che si generano continue mutazioni e adattamenti. Evidentemente questi esseri hanno scoperto qual è il gene che crea questo numero di anni e lo hanno bloccato, quindi tutto è basato sul fatto che padroneggiano questa tecnologia e quindi hanno la capacità di decidere quanto vive un essere vivente sia loro stessi che gli esseri che loro creano. Quindi stavamo dicendo che a quest'era dei patriarchi succede una cosa veramente strana, quindi il cardine di questo viaggio è basato su questa stranezza, cioè che in questo lungo periodo di occupazione dei sumeri, dal migliaia di anni avanti Cristo, da tempi immemorabili fino al 2000, quindi teniamo conto che poi nel 2000 questi re diventano storici, ben identificati, trovati in più reperti di varie popolazioni, quindi la cosa è concreta. Saltano fuori un popolo strano, gli Accadi. E perché erano strani? Perché parlavano una lingua diversa, il semitico, un ceppo semitico che, tradotto in termini semplici, parlavano l'ebreo, qualcosa di molto simile all'ebreo. Attenzione che l'ebreo e il sumero sono completamente diversi, quindi il sumero è considerato una lingua morta, una lingua che non ha collegamenti con altre lingue, anche se poi in realtà questo sarebbe molto discutibile, e in mezzo a questo imperare della lingua sumera è saltato fuori questa lingua, questo popolo, gli Accadi, che parlavano una lingua simile ebrea. E questo sta intrigando i linguisti perché non capiscono da dove saltano fuori. Quindi noi, se facciamo finta che, scopriamo che riusciamo anche a capire da dove saltano fuori questi ebrei. Quindi qualcuno venuto dall'alto, ecco questo è un altro ingrediente dell'analisi di Mauro Biglino, quindi poi questo lo potete vedere nei video, forse qualcuno che arrivò o qualcuno che era già lì, ma questo sarà un tema di approfondimento degli altri video, creò una razza che parlava una lingua diversa, parlava l'ebreo. E questo fu un flash, non è che fu una cosa che durò molto, dal 2750 al 2350 tutta la presenza di questa, diciamo, la lingua accadica. Ma poi, in realtà, questo, ora vediamo, questo popolo che parlava ebreo occupò tutta la Mesopotamia, anzi, addirittura tutto il mondo conosciuto. Quindi la cosa diventa intrigante perché riusciamo a capire da dove saltarono fuori, cioè esattamente dal nulla, cioè con una creazione. Quindi qualcuno creò un gente che parlava sumero, cioè che parlava ebreo. Probabilmente, quindi, questa... Allora, teniamo conto che la scrittura era sempre cuneiforme, ma le parole che scrivevano sono relative a un'altra lingua. Quindi c'è questa identificazione linguistica perché quando si traduce e questo si è potuto fare perché ci sono molte iscrizioni che hanno delle... sono divise in varie lingue. Quindi ci sono degli editti che sono stati scritti nei vari... in sumero, accadito, accadico e babilonese successivo, eccetera, eccetera. Quindi questa è una vera e propria anomalia che sarebbe una spiegazione da dove salta fuori questa lingua? Dal nulla, da una creazione esattamente come dice la Bibbia. Quindi facciamo finta che, ma poi troviamo dei riscontri. Ma andiamo avanti perché ci sono molte cose interessanti che non finiranno per molti video. Che succede? Questo regno accadico esplode improvvisamente, quindi diventa un impero, conquista tutto il mondo conosciuto che orbitava intorno alla Mesopotamia. E questa rapida espansione avviene dal 2350 al 2200, quindi proprio dentro l'era alla fine, quasi alla fine, quando c'erano proprio tutti. Quindi quando questo gruppo etnico, e qui faccio riferimento ai video di Mauro Biglino, erano in tanti perché vivevano a lungo, quindi fai figli, nessuno muore, alla fine diventa... Quindi diventarono un grosso gruppo veramente importante e fu capitanato da questo re, un grande re, Sargon, che guidò una epopea che rapidamente conquistò tutta la Mesopotamia. Ma vediamo la cosa forse la più interessante di tutti. Vediamo cosa si dice di questo Sargon che visse dal 2335 e al 2279 a.C. Questo serre aveva delle origini incerte, mitiche. Mia madre fu scambiata alla nascita, mio padre non lo conobbi, i fratelli di mio padre amarono le colline, la mia città, Arzurbaniu, che è collocata sulle rive delle Eufrate, la mia madre scambiata, mi concepì in segreto, mi partorì, è qui il punto centrale, mi mise in un cesto di giunchi col bitume, ella si gellò il coperchio, mi gettò nel fiume che si levò su di me, il fiume mi trasportò e mi portò ad Acchi, l'estrattore d'acche che è il quale lo allevò. Quindi qual è la caratteristica? Che qui c'è un re che salta fuori, non si sa da dove viene, non si sa bene chi è la sua famiglia, ma la cosa più interessante è che questo racconto non può che ricordarci qualcos'altro, qualcun altro che saltò fuori dal nulla allo stesso modo e la fattispecie Mosè. Quindi vediamo che Mosè, questa è una storia che probabilmente tutti sanno, salta fuori dal nulla perché sua madre la prese, la mise in un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pesce, ripose dentro il bambino e lo mise nel canneto e l'avevo in un fiume. Quindi c'è un altro che salta fuori dal nulla ma soprattutto poi non muore. Ecco, questo è un altro tema centrale che ora vi indicheremo i video dove lo stesso Mario Biglino approfondisce questa questione. Mosè era uno che non è stato visto morire, quindi è scomparso nel nulla, anzi, secondo Giuseppe Flavio è stato prelevato da un qualcosa che è arrivato in una nuvola. quindi sia Mosè e Sargon non sappiamo questi dettagli di Mosè ma sappiamo che la nascita è misteriosa, strana, quindi qualcuno che appare e sparisce dalla storia in modo misterioso. Quindi ora cercando di tirare le fila di questo primo video, che cosa possiamo riassumere ovviamente sia da quello che abbiamo messo qua in questo video e dai video che ha fatto Mario Biglino, che gli Elohim crearono un essere umano speciale, l'Adamo, lo resero immortale e lo portarono via con loro, Enoch. Quindi dopo aver creato Oxtadamo che viveva 900 anni, ecco, lo resero immortale e sono dei dettagli che vorremmo approfondire nei prossimi video. quindi lasciate in sospeso queste affermazioni perché provvedremo ad essere più precisi. Poi lo istruirono affinché guidasse le loro operazioni militari perché secondo noi questi Elohim sono impresentabili, forse sono di un'altra razza, quindi hanno bisogno di un figlio d'uomo, così come viene, come Gesù diceva, io sono il figlio d'uomo, il figlio, che poi figlio dell'uomo è stato aggiunto. in realtà la definizione degli antichi profeti era un figlio d'uomo, cioè uno che non è della loro razza, ma è della razza umana, quindi è stato scelto, un unto appunto, un prescelto, per rappresentarli e guidare le operazioni che poi spesso vediamo, come nel caso di Sargon, sono delle operazioni militari di conquista. quindi l'hanno istruito e hanno fatto questa prima operazione in Mesopotamia che adesso nei prossimi video andremo ad esplorare in lungo e in largo e vedere altri dettagli. Si è presentato come Sargon, successivamente ha guidato la famosa operazione del popolo eletto e si è presentato come Mosè e gli stessi rabbini pensano che il Messia che aspettano sia sempre questo Enoch. Infatti anche Gesù dice prima che Abramo fosse io ero, cioè un qualcuno che è nato prima di Abramo, quindi la teologia classica intende che questo che Gesù è Dio è sempre esistito, quindi Dio è eterno, quindi anche Gesù è eterno, quindi è una dichiarazione di divinità. Invece, secondo questa interpretazione, è una dichiarazione che è un qualcuno che è esistito prima di Abramo, prima che Abramo fosse io ero. E quindi cosa dovrebbe fare questo Messia al ritorno? È ovvio delle conquiste militari, ma questo risulta chiaro se legge quali sono le promesse di Abramo. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo io do alla tua discendenza questo paese dal fiume d'Egitto al fiume delle Ofrate e quindi andrà ad impire alle promesse di Abramo, cioè darà al popolo israeliano, gli israeliani la conquista di tutti i territori che ci sono tra l'Eufrate e il Nilo, quindi dei territori che in realtà non ha mai avuto, quindi è una promessa escatologica. Che si tratta che il Messia si occupi di cose militari lo si capisce da questo Salmo. Il Signore ha detto al mio Signore sedi alla mia destra finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabbello dei tuoi piedi. Quindi in realtà questo Messia sarà un capo, un rappresentante ma chi fa il grosso del lavoro è il Signore degli eserciti che provvede a sbaragliare gli eserciti nemici come annuncia la voce che grida virgola nel deserto spianatele via al Signore. Cioè il profeta dice guardate nel deserto fatevi da parte perché è meglio che non ci mettete mano. Quindi adesso se volete approfondire questa figura di Mosè con tutti i dettagli Mauro Peglino l'ha detto in questa serie su San Michele Michele l'Angelo Michele ma guardando questi video vi portate avanti con il lavoro perché finita questa serie andremo a spiegare la nostra ipotesi di cosa serviva questa linea di San Michele di cui parla in dettaglio Mauro Peglino quindi è importante che capite perché questo Apollo o San Michele hanno realizzato questa linea di templi quindi poi riuscirete a capire gli argomenti che svilupperemo quindi per chi non conosce il nostro canale ricordiamo che ci occupiamo di escatologia e di fenomeni cosmici dei fenomeni cosmici di cui parla la Bibbia quindi la piccola apocalisse dei Vangeli il profeta Gioele quindi se vi è piaciuto questo video iscrivetevi mettete un like condividete e se volete accedere ai documenti che ci hanno permesso di ricavare maggiori dettagli di questi fenomeni cosmici andate sul sito fetonte.it e troverete tutti i documenti potete studiarli di prima mano ciao a tutti indietro pulsante barra di navigazione